Si terrà il prossimo venerdì 5 novembre a San Casciano Valdipesa presso il Teatro Comunale Niccolini la seconda tappa del Tour Intolleranzia, lo spettacolo d'ingresso gratuito condotto da Paolo Ruffini sul tema dell'integrazione e dell'intolleranza. Il sipario si aprirà a 17.30 e come nella prima tappa di Borgo San Lorenzo saranno i giovani ad animare il dibattito. E questa è infatti la filosofia di Intolleranzia, uno dei progetti di filigrane, l'azione di sistema delle politiche giovanili della regione toscana. Chi è diverso? Perché fa paura a quello che non si conosce? Quanta ansia produce la paura del diverso? Queste sono solo alcune delle domande che l'istrionico presentatore livornese proporrà ai giovani spettatori. Durante lo spettacolo realizzato in collaborazione con il Comune di San Casciano saranno inoltre lette le opinioni raccolte sul territorio attraverso i social network, i letterbox e il sito www.intolleranzia.it. La prima tappa è stata un successo e anche in questo secondo appuntamento tutti si augurano di riuscire a trovare insieme una visione diversa del diverso. Cari amici, io vi invito tantissimo al prossimo incontro di Intolleranzia. Io capiterà spesso che sto nelle poltroncine ai teatri e voi capiterà spesso che sarete sul palco a dire cosa ne pensate. Ci interessa sapere cosa ne pensate voi. Vi preoccupate. Mi aspetto.